È venuta la luce nel giorno di Santo Stefano tra lo stupore generale. È nato all'interno del recinto dei pastori della rappresentazione del presepe vivente a Gricignano nel comune di Sansepolcro. Adesso diverse associazioni animaliste chiedono di non destinare l'agnellino alla macellazione, ma di farlo vivere libero. La richiesta arriva dalla rete dei santuari di animali liberi, un gruppo che in diversi luoghi e anche in Toscana ospita animali provenienti da allevamenti intensivi o che hanno avuto storie di maltrattamenti. Noi chiediamo l'affidamento dell'agnellino con la mamma e possibilmente la sua famiglia nato nel presepe vivente nei giorni di Natale a Gricignano, Sansepolcro, Rarizzo. Siamo disponibili a prendere in affido il cucciolo con la sua mamma assieme alle altre pecore presenti nel presepe dichiara la presidente della rete Sara D'Angelo che aggiunge È un gesto meraviglioso, di clemenza e di profonda umanità affidare questo piccolo con la sua mamma e la sua famiglia a un rifugio dove possano vivere liberi e felici tutta la loro vita. Vorremmo poter accogliere nei nostri rifugi anche gli altri animali presenti nel presepe di Gricignano, quindi conclude anche il bue, l'asinello, le capre, le oche, i conigli e tutti gli altri. La pecora che ha partorito l'agnellino è di proprietà di un allevatore che proviene dalla zona di Anghiari e che aveva messo a disposizione gli animali per la rappresentazione. Gricignano ha una grande tradizione per quanto riguarda il presepe vivente che continuerà con le sue rappresentazioni anche nel giorno dell'Epifania e domenica 7 gennaio a chiusura delle feste natalizie.